Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano ancora le conseguenze per il sisma e per il maltempo. Questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha illustrato i contenuti dell'incontro avuto ieri a Roma con il presidente del Consiglio Gentiloni. Parlando delle richieste fatte al governo per l'emergenza maltempo, in arrivo nuovi fondi e un ampliamento del cratere sismico. Il servizio di Paolo Renzetti. Nuovi fondi per l'Abruzzo per far fronte all'emergenza della forte ondata di maltempo dello scorso gennaio e ampliamento del cratere sismico a causa delle frane che stanno ancora interessando alcune zone della nostra regione oltre alle scosse di terremoto degli scorsi mesi. Questi risultati ottenuti dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso dopo l'incontro avuto ieri a Roma con il premier Paolo Gentiloni. Tutto questo grazie all'adozione di una norma ad hoc per l'Abruzzo. Un'ordinanza ad hoc che dà 90 giorni per la quantificazione dei danni e anche per la loro qualificazione. Un'ordinanza che prende a bersaglio i problemi che si sono verificati in ordine al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e anche alle attività economiche e commerciali. Accanto all'ordinanza ho riferito oggi anche dei colloqui col presidente Gentiloni e del fatto che ho rappresentato con adeguatezza la necessità dell'evoluzione del cratere sismico per fare in modo che si ricomprendano anche i nuovi problemi intervenuti dopo il 18 di gennaio. Ho posto il problema dei danni indiretti e ho trovato disponibilità non solo ad esaminare. Io ho posto il problema per quanto riguarda un piano dedicato circa la viabilità minore in Abruzzo e ho trovato non solo interesse ma adesione. E poi ho posto un problema per quanto riguarda un piano dedicato per l'aiuto al settore agricolo. E poi ancora una questione riguardante le piccolissime imprese del commercio e del turismo nei piccoli comuni di questa parte di Appennino che concerne l'Abruzzo. E poi abbiamo già incassato ieri sera il consenso per avere 35 unità in più in aiuto dei comuni che sono stati danneggiati. Ci saranno due unità in più per ogni comune, due unità per la provincia di Teramo, una per la provincia di Pescara ed una per la provincia dell'Aquila. L'evoluzione del cratere riguarderà l'Alto Aterno, questo è quello che io ho chiesto e sul quale ho avuto anche una forte attenzione, riguarderà naturalmente la montagna e la collina Teramana e riguarderà anche ciò che più è stato danneggiato della provincia di Pescara. Non si arresta lo scivolamento di 40 ettari di collina che sta distruggendo ora dopo ora a Ponzano di Civitella del Tronto. Tanti crolli si sono verificati anche questa notte e il sindaco di Civitella, Cristina Di Pietro, in queste ore è impegnata in un incontro con i vertici della Protezione Civile Nazionale per cercare di salvare quello che resta dell'abitato di questa frazione. Tania Bonici Castelli. Ancora crolli durante la notte a Ponzano di Civitella del Tronto. La frana di 40 ettari di collina non si arresta e tecnicamente non si riesce a trovare una soluzione per fermare questa distruzione inesorabile. Ad oggi sono 33 le abitazioni sgomberate e 125 le persone fuori casa con la prospettiva di non rientrare più. Il sindaco Cristina Di Pietro sta incontrando i responsabili della Protezione Civile Nazionale per tentare di salvare ciò che resta dell'abitato più in alto di Ponzano. Le immagini shock di questa frazione di Civitella, del Tronto che scivola a valle, stanno facendo il giro del mondo. Lo strazio degli abitanti costretti a lasciare ogni cosa e ad evacuare in poche ore è una stretta al cuore per tutti. Ora c'è bisogno di fondi immediati, grida da giorni il sindaco Di Pietro. Lo Stato deve intervenire. Non possiamo permettere che un intero paese venga inghiottito da una frana e noi immobili a guardare. Intanto il movimento franoso a Ponzano è in rapida evoluzione. Gli esperti ritengono opportuno aspettare. E oggi sopra il luogo della Protezione Civile a Cermignano, in provincia di Teramo, dove ieri sera è stato chiuso un tratto della Statale 81 per il rischio crollo di due case adiacenti, la sede stradale. La situazione delle abitazioni già lesionate e sgomberate nel 2015 si è aggravata a causa di una frana riattivatasi dopo l'ondata di maltempo di gennaio. Il geologo che ha effettuato il sopralluogo ci ha detto che la frana è ancora in atto. Siamo in emergenza, ha spiegato il sindaco Santino Di Valerio. Ora aspettiamo che la Protezione Civile, sulla scorta della relazione che sarà rimessa dopo il sopralluogo di oggi, ci dica cosa fare per mettere in sicurezza le due abitazioni che rischiano di crollare sulla strada. La Statale quindi per il momento resta chiusa. A causa del maltempo di gennaio una frana ha interrotto un tratto della strada provinciale 20 che collega nel pescarese Pianella a Loreto a Prutino, in località Cartiera. A distanza di 40 giorni non si è ancora svolto il sopralluogo dei tecnici della provincia di Pescara. Una situazione insostenibile per il consigliere regionale di Forza Italia Sospiri e gli amministratori locali della zona. Lorenzo Sospiri, capogruppo di Forza Italia in Regione, questa è la strada provinciale 20 che collega Loreto a Prutino a Pianella, è una priorità? Sì, insomma c'è tutta la vallata del tavo che è tagliata fuori da qualsiasi tipo di collegamento con le altre parti della provincia e della Regione. La cosa che ci spaventa è che dopo 40 giorni di richieste ad oggi non siamo ancora riusciti ad ottenere neanche il sopralluogo della provincia. Se andiamo di questi passi metteremo non solo i cittadini in un'esasperazione perché per fare qualsiasi cosa devono fare tutto il giro della provincia di Pescara ma soprattutto metteremo ancora le imprese in ginocchio. Non è possibile, il danno è importante, c'è, ma credo risolvibile. Comunque abbiamo offerto anche delle soluzioni alternative per passare la frana e le frane e rimettere in funzionalità la circolazione. Quali sono secondo voi gli interventi urgenti di cui ha bisogno questa strada? Innanzitutto censirla come tale, cioè una strada che ha pesanti azioni di sassilo geologico e dopodiché mettere in sicurezza le frane, nel frattempo creare una viabilità alternativa che è alle nostre spalle su una strada comunale che va sistemata per questo e riaprire la strada per dare respiro ai residenti, a tutti i cittadini della Valtavo, dell'area Vestina e alle imprese. Purtroppo non si vede alcuna iniziativa degna di nota per nemmeno iniziare ad affrontare questo problema, siamo davvero preoccupatissimi. Questa non è una questione che riguarda i residenti o il centro storico di un comune, questa è un'arteria che dà possibilità all'economia di gran parte della provincia di Pescara di sopravvivere, perché qui tutto il comparto edilizio e delle cave della Valtavo utilizza questa arteria, lo utilizzava, ahimè, per approvvigionare le imprese edili dell'entroterra. È l'arteria che collega con Chieti, con l'ospedale, con l'università. Non avere da parte dei livelli di governo superiori la percezione del disastro dal punto di vista socio-economico che la perdurante chiusura di questa arteria provoca alla provincia di Pescara è davvero inaccettabile ed inammissibile. La giunta regionale su proposta del presidente Luciano D'Alfonso e sulla base dell'istruttoria favorevole resa dagli uffici competenti ha conferito all'ingegner Marcello D'Alberto l'incarico di direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 con sede a Teramo. D'Alberto, 45 anni, dirigente dell'ufficio tecnico e urbanistico al comune di Pineto, avrà un incarico della durata di tre anni. In apertura abbiamo ascoltato le parole del governatore D'Alfonso circa la richiesta di ampliamento del cratere fatta ieri al premier Gentiloni. Ebbene, il comune di Farindola chiede appunto al governo di essere inserito all'interno del cratere sismico. Per questo, ieri sera, si è svolto un consiglio comunale straordinario, una condizione necessaria, secondo il sindaco Lacchetta, per garantire il rilancio immediato del territorio. Il servizio di Vestina News. Sindaco Lacchetta, avete organizzato questo consiglio comunale straordinario per far sì che il vostro comune rientri dentro il cratere sismico? Sì, abbiamo convocato questo consiglio straordinario d'urgenza per chiedere l'ingresso all'interno del cratere sismico, affinché siano implementate tutte quelle progettorità necessarie per rilanciare la nostra area, a partire dalle infrastrutture principali, quindi viabilità, scuole e sanità, per arrivare poi al rilancio turistico del nostro territorio. Ieri siete stati a Roma, visita all'udienza del Papa, avete chiesto la sua visita per far sì che anche il popolo di Farindola abbia uno sprono in più per andare avanti. Sì, ho chiesto alla sua santità di visitare il nostro territorio, di portare una parola di speranza alla nostra comunità. Speriamo riesca a venire e a darci una benedizione divina. Nei giorni passati lei ha avanzato l'idea, l'ipotesi di chiedere la cassa integrazione per quelle persone, per quei ragazzi che adesso hanno perso il lavoro all'hotel Ricopiano. Sì, è uno strumento che sarà ricompreso all'interno dei paesi del cratere sismico, quindi sarà sicuramente necessario ottenere una cassa integrazione inderego per avere un cuscinetto temporale per superare questa emergenza sia dal punto di vista economico ma anche e soprattutto emotivo per gente che ha visto perdere tutto con il dramma dell'hotel. E domani pomeriggio a Pizzoli, nell'Aquilano, si svolgerà un consiglio comunale congiunto dei comuni di Pizzoli, appunto, di Barete e di Cagnano a Miterno che chiedono anch'essi l'inserimento all'interno delle cratere. Si svolgerà sabato 25 febbraio alle ore 17 nell'auditorium del Tosto di Pizzoli il consiglio comunale congiunto dei comuni di Pizzoli, Barete e Cagnano a Miterno con l'ordine del giorno 20 sismici 2016-2017 nell'area di emergenza dei territori comunali richiesta ingresso nel nuovo cratere. Il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, chiede aiuto allo Stato perché dopo le scosse del 18 gennaio, dice il primo cittadino, gli immobili sono stati fortemente danneggiati, le attività economiche si sono bloccate e gli abitanti sono stremati. Anastasio chiama a raccolta tutti gli altri comuni di Mitrofi per garantire la continuità di fondi per la ricostruzione e per il sostegno alle economie. Abbiamo avuto una settimana intensa con riunioni e incontri. Fino ad oggi, dalle ultime notizie, una risoluzione votata all'unanimità dal Consiglio regionale sembra aprire la strada all'allargamento del cratere ma ancora non basta, dichiara così Graziano Santucci, consigliere del Comune di Cagnano. Finché non vedremo i nomi dei comuni scritti sul decreto, noi molleremo un attimo e difenderemo il nostro territorio, dichiara Santucci. La CGL di Teramo si è riunita oggi per un incontro programmatico sulla grande marcia di protesta che si svolgerà il 2 marzo a Roma. Si chiedono sgrevi fiscali all'allargamento del cratere per danni sismici e da maltempo. E se non arriveranno risposte immediate dal governo, il sindacato propone un clamoroso sciopero generale che fermi per un giorno l'intera provincia terramana. Per la CGL terramana il 2 marzo non sarà una marcia sul Roma, ma piuttosto una marcia per Teramo. Le richieste al governo saranno nette, sgravi fiscali e allargamento del cratere per danni sismici e da maltempo. E se questa iniziativa non basterà, il sindacato si dice pronto ad un clamoroso sciopero generale di tutto il territorio terramano, un giorno nel quale ogni tipo di attività commerciale, pubblica e privata si fermerà come segno di dolore. Intanto a Teramo a testimoniare la vicinanza all'organizzazione sindacale arriva la segretaria nazionale della CGL, Gianna Fracassi. Non è solo vicinanza, è un impegno molto concreto a partire dai rapporti che in questi giorni, in queste settimane, stiamo provando a mettere in campo. sia sul versante normativo, c'è un decreto, il terzo, che fa alcuni interventi importanti, per noi non sufficienti, e c'è oltre a questo anche l'intenzione di mettere in campo un progetto che parli non soltanto alla ricostruzione fisica, ma anche alla ricostruzione economica e sociale del territorio. Il governo risponderà in breve tempo, secondo lei? Il governo deve rispondere. Su questo, come dire, ci sono assunti la responsabilità a tutte le più alte cariche dello Stato. Nel corso dell'incontro odierno organizzato dalla CGL di Teramo è stata ricordata la grave perdita occupazionale che si è registrata in provincia. 8.000 posti di lavoro persi negli ultimi due anni e 1.000 imprese in meno. Voi usate uno slogan, libera il lavoro. Ecco, lei come lo libererebbe il lavoro in Abruzzo? Io credo che qui occorra fare un intervento di sistema sul versante della ricostruzione economica. Non sono sufficienti, non è sufficiente il patto per il Sud, il patto per il Mezzogiorno, che nei mesi scorsi è stato messo in campo. Qui c'è da fare molto di più. È necessario provare a costruire un progetto che tenga dentro tutte le problematiche delle aree interne del territorio che sono peculiari, ma anche che provi a rilanciare a partire dalle filiere produttive che ci sono perché ovviamente queste devono essere difese e valorizzate, provi a ricostruire un percorso economico. Per l'UGL si trattava di un disastro annunciato. Il sindacato pone l'attenzione sulla qualità del servizio di pulizia dei propri mezzi che l'azienda tua ha affidato a ditte esterne. L'affidamento dei servizi di pulizia a ditte esterne da parte della tua finisce nel mirino del sindacato dell'UGL. Ne fanno le spese i lavoratori, che in talunni casi non percepiscono regolarmente lo stipendio, se non pagato sotto forma di acconti. E gli utenti, perché i mezzi risultano sporchi. Bagni e mense lasciano a desiderare. Intanto perché l'appalto era stato vinto ad un massimo ribasso come avviene purtroppo di consuetudine in questi tempi e 330 mila euro in meno rispetto a quello che il sistema e quindi l'ARPA spendeva per il servizio ci sembrava nascondesse qualcosa. E adesso i fatti ci danno ragione. I lavoratori dovrebbero essere adibiti per 6 ore e 40 al giorno nei vari cantieri del servizio pubblico locale e del trasporto. Invece lavorano 4 ore e 40 per le pulizie degli autobus e delle parti comuni. E le altre 2 ore e 40 vengono mandati supermercati, altre aziende. Oh, Asile, Roma, Marlena, adesso è inutile fare l'erenco. Quindi i soldi pubblici servono anche per fare altro. Questa è una cosa che noi riteniamo gravissima e che la Regione che detiene l'azionista di Tua dovrebbe attenzionare molto ma molto bene. Noi lo diciamo da tempo e spesso invece dobbiamo dire che siamo inascoltati anche da parte della Regione. Per cui noi abbiamo protestato ed io personalmente ho protestato vivacemente col Presidente della Regione quando l'UGL non viene chiamata al tavolo. E soprattutto l'UGL Autoferro Trambieri che purtroppo non ha firmato il contratto di fusione. Quindi riteniamo che questo sia anche una sorta di dire non avete firmato, non vi chiamiamo. Chiediamo alla Regione, appunto, che è l'azionista maggiore di Tua che una volta per tutte attenzioni a questo problema e soprattutto vigili in maniera appessante sotto queste ditte. Riaperti da oggi gli impianti sciistici di Campo Imperatore in perfette condizioni di efficienza. Lo rende noto il centro turistico del Gran Sasso S.P.A. Germana Dorazio. Dopo il brusco stop del turismo montano a Campo Imperatore con la chiusura degli impianti sciistici nei giorni scorsi sono riaperti da oggi gli stessi impianti di Campo Imperatore in perfette condizioni di efficienza. A renderlo noto è il centro turistico del Gran Sasso che spiega che la decisione di chiudere la seggiovia Fontari per la revisione di dispositivi di aggancio di alcune vetture è stata presa insieme al direttore d'esercizio per adeguare il servizio al massimo rispetto degli standard di sicurezza che la società deve garantire verso la clientela. L'intervento di manutenzione specifica al centro turistico è stato effettuato e certificato dai tecnici qualificati che la ditta Leitner ha messo a disposizione del centro turistico in virtù della clausola del contratto sottoscritto per la sostituzione della seggiovia che prevede a carico della Leitner i lavori di manutenzione sul vecchio impianto. Quindi da questo weekend si potrà tornare a sciare a Campo Imperatore. Torniamo a Pescara. Cosa servono i lavori antiallagamento posti in essere dall'amministrazione comunale in Viale Marconi? Tanti i dubbi espressi stamani dall'associazione Pescara Mi Piace. Siamo all'incrocio tra Viale Marconi e Via Elettra. Lavori antiallagamento. Fiorilli cosa volete segnalare come associazione Pescara Mi Piace? Vogliamo segnalare innanzitutto il fatto che oggi ci sono dei lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal piano antiallagamento di circa 36.000 euro di cui non conosciamo bene la ragione e soprattutto la funzione. Ci chiediamo perché quest'ulteriore esecuzione di lavori rispetto a quelli già previsti a cosa servono? Se siano realmente utili rispetto invece al completamento dei lavori cioè al DK15 al collegamento del TK15 con i lavori antiallagamento per scongiurare finalmente in maniera definitiva l'allagamento di questa zona che ormai sembra una storia infinita. Chiediamo all'amministrazione alcune risposte che in realtà chiediamo da tempo non sono mai state fornite e ci chiediamo se i lavori eseguiti siano veramente utili o sia un altro sperpero di denaro che purtroppo la prossima pioggia non risolverà il problema in maniera definitiva. Vogliamo ricordare che l'amministrazione a guida al Boremascia ha lasciato un cantiere con 2 milioni di euro. Poi questo cantiere è stato collaudato ma a distanza di qualche mese la via Marconi continua ad allagarsi la via De Petruzzi continua ad allagarsi con danni enormi alle attività economiche produttive della zona. Adesso durante l'ultimo piaggio abbiamo saputo dal comune che via Marconi si è allagata perché i tombini sono diventati affluenti del Bardet cosa molto strana perché a noi risulta che il Bardet tramite le proprie trovare ha scaricato al fiume quindi un nuovo inquinamento. Da giugno 2016 un comunicato stampa del comune annunciavano il completamento del lavoro del DK15 ad oggi il DK15 è stato fatto è stato progettato a che punto sono? Ci chiediamo quindi le domande sono due questo lavoro è stato collaudato perché non funziona bisogna tornarci sopra è una domanda al sindaco ma il comune di Pescara ce l'ha l'assessore all'ambiente? Sì o no? Novità a Lanciano sul fronte della viabilità e della gestione delle ZTL ma nelle ore di applicazione dei nuovi provvedimenti nelle prime ore di applicazione gli automobilisti hanno fatto fatica a metabolizzarli. ZTL attenzione si cambia semafori spenti a Lanciano all'ingresso dei quartieri storici Borgo e Lanciano Vecchio automobilisti disorientati dalla novità delle ultime ore c'è infatti chi ci ripensa non volendo rischiare di beccare una multa che probabilmente non sarebbe la prima c'è chi invece entra spedito come sempre che succede? L'assessorato alla mobilità ha deciso di rimuovere i segnali luminosi poiché non contemplati dal codice della strada lasciando solo i cartelli della segnaletica verticale perché i lancianesi dicono dall'amministrazione comunale hanno finalmente capito come funzionano le due zone a traffico limitato a Lanciano dice in particolare l'assessore Francesca Caporale si registra una riduzione del 90% nei diviti di accesso alle ZTL di Borgo e Lanciano Vecchio da una media di circa 150-200 infrazioni al giorno nel primo periodo di vigore della ZTL si è registrata una media di circa 15-20 infrazioni al giorno nell'ultimo mese di gennaio ma la scomparsa dei semafori non sarà l'unica novità a fine marzo dal 27 per la precisione entrerà in vigore il nuovo regolamento e stavolta sarà quello definitivo per saperne di più anche in merito ai permessi temporanei di accesso si terranno degli incontri illustrativi tutti i martedì pomeriggio di marzo alla casa di conversazione nel frattempo a Civitanova e Sacca i residenti si riuniscono in assemblea per scongiurare l'avvio della zona traffico limitato nei loro quartieri oramai è un appuntamento fisso per lo sport in Abruzzo e per la solidarietà e richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutta Italia si tratta della manifestazione sport per la vita in scena domani al Palamagetti di Roseto degli Abruzzi torna a Roseto degli Abruzzi l'evento sport per la vita l'appuntamento con il 32esimo grangalà internazionale di pattinaggio spettacolo in programma sabato 25 febbraio alle 20 e 30 al Palamagetti di Roseto qual è il programma di quest'anno? programma come sempre tutti i campioni del mondo di pattinaggio artistico delle varie specialità c'è poi ci teniamo a sottolineare che hanno aderito al numero di apertura della manifestazione dedicato all'Abruzzo ferito tutte le società di pattinaggio artistico dell'Abruzzo c'è poi l'ospite d'onore Piero Mazzocchetti la Rosa d'Argento Sport e Cultura per la vita quest'anno è stata attribuita all'associazione Amicacci di Giulia Nove per la sezione Amicuccioli parteciperà anche un abruzzese doc che è Deborah Sbei Deborah Sbei sì pluricampionessa del mondo che come sempre ci onora della sua presenza un evento che coniuga Sport e Solidarietà quella solidarietà che ha caratterizzato la città di Roseto degli Abruzzi facendola diventare veramente un esempio per l'intera regione per noi è importante ospitare questa rassegna per la 32esima volta quindi siamo la 32esima edizione quindi non possiamo che essere orgogliosi ed essere vicini a chi fa della solidarietà il proprio motivo diciamo di vita di questa di questa associazione perché non scordiamoci che tutto l'incasso verrà devoluto sia alla Lega per la Fibrosicistica che all'Unità al Siabruzzo Apriamo ora la pagina dello sport parliamo di Serie A e di Pescara che continua la preparazione del match di domenica prossima al Bente Godi di Verona contro il Chievo oggi doppia seduta agli ordini del tecnico Zeman non saranno disponibili i giocatori che stanno facendo lavoro differenziato Campagnaro Baibec e Gilardino quasi certamente il tecnico Boemo riproporrà la formazione che ha battuto nettamente il Genoa domenica scorsa nel Chievo invece sicuro assente l'attaccante Pellissier da verificare le condizioni invece del difensore centrale Cesar che anche ieri era fermo per un attacco influenzale intanto il difensore biancazzurro Stendardo parla proprio dell'avvento di Zeman sulla panchina del Pescara dal vivo una metodologia nuova basata su un lavoro fisico atletico importante che sicuramente ci darà dei benefici almeno me lo auguro da parte nostra c'è la massima disponibilità dobbiamo cercare di adattarci di adeguarci e sicuramente avremo dei benefici conoscete meglio di me il mister i suoi metodi di lavoro non conoscevo però come ho detto prima la sua ironia e quando una persona è ironica significa che è una persona molto intelligente cosa è cambiato rispetto al Pescara di Oddo oltre al risultato è cambiato che abbiamo vinto una partita anche se sono convinto che con una vittoria non abbiamo risolto i nostri problemi bisogna dare continuità alle prestazioni sappiamo che la classifica è difficile il campionato è impegnativo però se dovessimo dar seguito alle prestazioni come quella di domenica è ovvio che la nostra autostima aumenterà e così potremmo ottenere sicuramente dei risultati migliori noi abbiamo sofferto insieme ai tifosi insieme alla piazza insieme alla società per i risultati che purtroppo non sono arrivati negli ultimi tempi e capisco anche la rabbia la delusione dei tifosi così come ho percepito la gioia e il calore di domenica quando abbiamo terminato la partita giocando una partita fantastica e vincendola direi meritatamente contro una squadra come il genere come si può fare insomma ma io credo che ci siano delle buone possibilità anche se è un'impresa difficile lo dimostra la classifica lo dicono i numeri però nel calcio da tanti anni io vivo in questo mondo e nel calcio ci potrebbero essere delle belle sorprese e il cambio in panchina in Lega Pro ha rigenerato anche il Teramo con la guida tecnica di Ugo Lotti il Teramo ha conseguito quattro punti ma soprattutto la squadra in due partite non ha preso gol servizio una vittoria corroborante non c'è che dire il Teramo che esce dal recupero col Portenone con vista già sul Padova sembra aver quantomeno trovato quell'equilibrio che probabilmente è l'ingrediente che finora è mancato anche aver tenuto per la seconda volta consecutiva la porta inviolata è il primo mattoncino pesante che Ugo Lotti ha piazzato al centro del progetto di rilancio si vincono i campionati e si ci salva senza subire reti in questo momento basta vincere 1-0 basta vincere non bisogna vincere 4-0 bisogna fare punti la prima cosa la prima cosa da sistemare sicuramente è dare solidità lavorare sul reparto difensivo perché quando siamo arrivati adesso le statistiche le guarderemo però eravamo la terza peggior difesa dare non prendere gol significa lavorare anche con i ragazzi con uno spirito diverso ti ascoltano seguono non è che non l'hanno fatto prima però è normale che c'è uno spirito diverso lo spirito sì ma anche la possibilità di attingere a piene mani da una rosa ampia a cui va comunque chiesto sempre quel sacrificio intravisto con i Neroverdi in alcuni reparti abbiamo un'abbondanza e abbiamo qualità perché se andiamo a vedere le presenze di questi ragazzi in determinati ruoli sono ragazzi che hanno sempre fatto 20-25 partite non qua ma probabilmente in altre squadre abbiamo qualche problemino numerico in mezzo al campo dove abbiamo tanti ragazzi giovani che si devono far trovare pronti perché man mano che li conosceremo probabilmente ci sarà spazio abbiamo possibilità di giocare con le due punte di conseguenza abbiamo gli esterni che non siamo in un numero eccezionale di conseguenza uno si rende conto anche per la programmazione di un allenamento lo schema giusto per poter affrontare una squadra insomma Ugo Lotti sembra aver almeno virato l'umore in casa bianco-rossa clima tendente alla schiarita dopo le nubi che hanno attanagliato il diavolo ma nel tour de force che attenderà il Teramo c'è uno scontro tutto bianco-rosso domenica pomeriggio all'Euganeo gara difficilissima ma che da mercoledì si può guardare già con un altro piglio io mi auguro che sì noi adesso abbiamo un tour de force perché se dovessimo guardare le squadre che affrontiamo vista la classifica ci dovremmo impressionare siccome io non mi impressiono noi non ci impressioniamo lavoriamo sul campo andiamo a preparare adesso ci godiamo momentaneamente questa vittoria che ci aiuta a lavorare aiuta i ragazzi perché se lo meritavano perché torno a ripetere è dal 4 mi sembra di dicembre che non sorridono aver fatto anche Natale senza sorridere non è bello aver cambiato tre allenatori non è bello perché sono dei professionisti di conseguenza si nota questo nei ragazzi io mi auguro che già da domani vengano con lo spirito che hanno sempre avuto ma col sorriso perché torno a ripetere in fin dei conti è sempre uno sport è sempre una partita di calcio finisce qui la prima edizione del TG6 le prossime alle ore 19 e alle ore 23 grazie per l'attenzione e pronto seguimento di giornata grazie per l'attenzione